Nelle imminenti puntate della popolare soap opera Terra Amara, gli spettatori saranno coinvolti in una sequenza di avvenimenti ricchi di emozioni e tensioni. La storia si sviluppa con un ritmo incalzante, pieno di momenti drammatici e svolte inaspettate che terranno il pubblico incollato allo schermo. Al centro di queste vicende troviamo Umit, un personaggio che si trova in una situazione estremamente difficile. In fuga da Demir, un personaggio chiave della serie, Umit si ritrova in una posizione vulnerabile dopo aver perso il denaro che aveva ricevuto da Sevda. Questa perdita rappresenta un punto di svolta per Umit, che si trova costretta a cercare aiuto in una situazione disperata. La sua scelta ricade su Fikret, un personaggio che ha dimostrato di avere un'influenza significativa all'interno della narrazione. Parallelamente, si svolge la storia di Saniye, che si trova a dover affrontare una decisione difficile. Sospettando Kumali di comportamenti inappropriati verso la piccola Uzum, decide di licenziarlo. Questo evento mette in luce la complessità delle relazioni tra i personaggi e gli intricati legami che li uniscono, mostrando come un singolo evento possa avere ripercussioni su tutta la comunità. Un altro filone narrativo riguarda Fekeli, il quale si trova di fronte a una grande sfida personale. Il suo desiderio di adottare Keremali si scontra con la realtà di possibili complicazioni legali. La presenza di parenti viventi di Mugan crea un ostacolo significativo al suo obiettivo, portando tensione e incertezza nella sua vita. Questo aspetto della trama mette in luce le difficoltà e le sfide emotive che i personaggi devono affrontare nel perseguire ciò che ritengono giusto. Queste storie, intrecciate tra loro, creano una narrazione avvincente e multistrato che esplora temi come la fedeltà, la giustizia, l'amore e il sacrificio. Ogni personaggio porta con sé una storia unica, piena di sfumature e complessità, che contribuisce a rendere Terra Amara una serie affascinante e imprevedibile. Gli spettatori possono aspettarsi di assistere a momenti di grande intensità emotiva, decisioni difficili e colpi di scena che cambieranno il corso degli eventi, rendendo ogni puntata di Terra Amara un appuntamento imperdibile per chi segue con passione le vicende dei suoi amati personaggi. Nel corso delle avvincenti vicende della SOAP opera Terra Amara, un episodio particolarmente carico di tensione e dramma si svolge attorno a figure chiave della storia. Uno degli eventi salienti di questo episodio riguarda il piccolo Kerem Ali, un bambino che si ritrova al centro di una situazione complicata e piena di emozioni. Un avvocato, mosso da motivazioni non del tutto chiare, arriva con l'intento di portare via Kerem Ali. Questo tentativo crea un momento di grande ansia e incertezza, poiché il futuro del bambino sembra essere appeso a un filo. Tuttavia, in una svolta inaspettata, l'avvocato viene fermato da alcuni personaggi che intervengono per proteggere il bambino. Questo intervento dimostra la forza della comunità e l'importanza dei legami che uniscono i personaggi della serie. La tensione si intensifica ulteriormente quando Kerem Ali viene ricoverato in ospedale a causa di una grave meningite. La sua condizione è critica e il bambino trascorre una notte in terapia intensiva, un momento che tiene gli spettatori con il fiato sospeso. La preoccupazione per la salute di Kerem Ali è palpabile e il pubblico si ritrova a sperare e pregare per la sua pronta guarigione. Nel frattempo, un altro dramma si sta svolgendo parallelamente. Umit, un altro personaggio centrale, viene localizzata e rapita dagli uomini di Demir. L'obiettivo di questo rapimento è di interrompere forzatamente la gravidanza di Umit, una mossa che porta a galla la disperazione e la malvagità di alcune figure chiave della serie. Questo atto crudele porta Sevda, un personaggio che ha sviluppato un legame particolare con Umit, a cercare disperatamente l'aiuto di Zuleia e Betul. La situazione è carica di tensione e disperazione, poiché i personaggi cercano di salvare Umit da un destino crudele e ingiusto. In una svolta sorprendente e piena di speranza, contro ogni aspettativa, Kerem Ali si riprende miracolosamente dalla sua malattia. Questo recupero rappresenta un momento di grande gioia e sollievo per tutti i personaggi coinvolti, così come per gli spettatori, che hanno seguito con apprensione le vicissitudini del bambino. La guarigione di Kerem Ali rappresenta un raggio di speranza in mezzo alle difficoltà e alle sfide che i personaggi devono affrontare e simboleggia la resilienza e la forza dello spirito umano. Questi eventi, densi di emozioni e di tensione, sono solo una piccola parte della complessa trama di Terra Amara. La serie continua a catturare l'attenzione degli spettatori con le sue storie profonde, i suoi personaggi sfaccettati e le sue svolte narrative imprevedibili, mantenendo il pubblico in costante attesa di ciò che accadrà nel prossimo episodio. Zuleyya interviene per salvare Umit dall'aborto forzato, affrontando Demir riguardo alle sue responsabilità. Nel frattempo, Sevda ricatta Demir, chiedendogli denaro e un'auto in cambio del silenzio sull'omicidio commesso insieme a Zuleyya. Demir, per evitare che Sevda riveli la verità, seppellisce in segreto il suo corpo. In un altro sviluppo, l'avvocato dello zio di Kerem Ali rivendica il diritto del bambino a vivere con la famiglia di Mushgan. Fekeli e Lutfaye, tuttavia, decidono di pagare per assicurarsi la custodia di Kerem Ali, mentre Demir viene arrestato. Nella sop-opera Terra amara, la trama si intensifica notevolmente con sviluppi che tengono gli spettatori sul filo del suspense. Dopo la tragica morte di Mushgan, un personaggio centrale nella storia, si assiste a una svolta significativa nelle dinamiche tra Fikret e Demir. Fikret, colpito profondamente dalla perdita, decide di mettere fine alla sua lunga e aspra lotta contro Demir. Questa decisione segna un momento cruciale, portando a un inaspettato accordo di pace tra i due. Nel frattempo, Umit, un altro personaggio chiave, si trova in una posizione di potere nei confronti di Demir. Conoscendo un segreto oscuro che potrebbe rovinare Demir, Umit lo minaccia. Se lui non le permetterà di fare ciò che vuole, lei rivelerà a tutti il suo coinvolgimento nell'omicidio di Sevda. Questa minaccia porta Umit a trasferirsi nella villa degli Yaman, un luogo che è stato il teatro di molti eventi significativi nella serie. Demir, pur non essendo felice di questa situazione, si trova costretto ad accettare la presenza di Umit nella sua casa. In un sorprendente colpo di scena, Demir annuncia che Fikret è in realtà suo fratello. Questa rivelazione cambia completamente le dinamiche all'interno della villa, creando nuove alleanze e possibili conflitti. La villa degli Yaman, già scossa da questa notizia, deve affrontare le conseguenze di un violento assalto. Questo evento mette a dura prova i personaggi, svelando lati nascosti della loro personalità e dei loro rapporti. La situazione raggiunge un punto di massima tensione quando, a seguito di uno scontro a fuoco, Demir scompare misteriosamente. La sua assenza lascia un vuoto e una serie di domande senza risposta. Gli abitanti della villa e gli spettatori si ritrovano a chiedersi cosa è successo a Demir? È ancora vivo? E se sì, dove si trova? Questi sviluppi narrativi in Terra Amara non solo aggiungono complessità alla storia, ma creano anche un'atmosfera carica di attesa e curiosità, spingendo gli spettatori a seguire con ancora maggiore interesse le vicende dei protagonisti per scoprire come si evolveranno queste intricate trame. Queste anticipazioni promettono una trama ricca di colpi di scena e di momenti intensi, mantenendo gli spettatori incollati allo schermo. Concludo il video con questa domanda. Secondo voi Betul è realmente la figlia di Sermin? Oppure nelle prossime puntate potrebbe rivelarsi in realtà essere la sorella di qualcuno? Ho rivelato un piccolo spoiler nella copertina. Scrivi la tua opinione nei commenti. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perdere le prossime anticipazioni di Terra Amara.